Allora ragazzi, oggi andiamo a questo nuovo pezzo di ciclabile che va da Iberia a Santa senza mare, perché si attacca all'area, a quella ciclabile lunghissima che va prima o si tenga l'aria di piedi. L'inaugurazione di questa ciclabile c'è stata il 2 di luglio, io ero la maratona quindi non ho potuto partecipare, ma ci finiamo oggi, vediamo come l'hanno fatta. Questo pezzo taglia un pezzo abbastanza pericoloso dove camminano a bomba e macchina, quindi interessante e soprattutto toglie un pezzettino una rampetta, vabbè, quello almeno. Questa dovrebbe essere l'unica galleria presente in questo nuovo tratto di ciclabile. Invece non ho incominato. Vi ricordo che sulla ciclabile c'è il limite di velocità di ciclabile. 20 km orari, questo l'hanno fatto dopo che appena aperta tanti anni fa venivano i gruppi a fare 60 di media e investivano da di nuovo. e ogni tanto i vigili si mettono veramente in colpe del laser. Ogni tanto succede. A presto! A presto! Andiamo! Sì, sì, sì dai, hanno fatto tutte le scena in inaugurazione poi non sono riusciti ad asfaltare tutti i 200 metri ma è forte ragazzi, è forte io oggi ho usato la gravel non perché sapessi questo è un grasso di sterrante l'Orezzo al mare qua è partita una tappa del giro in Italia questo è l'interesse storico dell'Orezzo adesso ci ritorniamo basta come avete visto questa è la noce cittabile anni, non so quanti anni per farla e nonostante tutto non sono riusciti ad asfaltare ancora, ma che centinaio di meno povera Italia ragazzi ciao alla prossima